Non mi riesce, 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 scusa, perché io penso non so mai più che a vendere una cosa usata, la parola di mettere un culo, poi se non gli si rompe e figuraci fuoco, capito? Mentre a me l'hanno venduto una macchina, una volta l'altra mi ammazzo, era quasi divisa in due, mancava un capello, me l'hanno venduto come un macchino, una, preso una bua sull'autostrada se ti pare, è morto, e mi fermai la macchina. Per avere una normalità media buona, intanto la registrazione è un po' e poi le asse così rispondano tra livelli. Di medi, di bassi, di tutto, quindi è un po'